buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video big mark qui per voi oggi insieme a te insieme a fede che vi proporremo un bel workout chest triceps e un po di spalline oggi cosa faremo un workout da fare in compagnia ci divertiremo non vi porto spesso persone sul canale mi sto trovando molto bene con den poi ho provato questo ragazzone però lo vedete un pochino piccolo vedete delle smagliature perché prima è una bestia 130 kg 130 kg massimale di pack 220 300 di stacco e 300 di spot campione europeo di powerlifting mi sono fatto dare infatti due dritte per quanto riguarda il mio stacco sumo che non è di migliori ha dei grandissimi pr anche dei grandissimi pettorali gambe richiedeva dello sport cioè un super cester super striato e quindi siamo cari grandissimi sulle pressioni giuste per spaccare questo workout inizieremo con la classica panca poi facciamo una panca stretta andiamo a fare anche una panca inclinata con i manubri per cambiare un attimo lo stimolo passiamo le spalle infine due esercizi fondamentali per quanto riguarda i tricipiti siamo pronti iniziamo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina seguiteci su instagram vi lascio il loro link qui sotto in descrizione e noi siamo pronti per spaccarci let's go 1 2 3 4 5 dato che mi sono allenato spesso con dentro quanto riguarda i circuiti oggi lo facciamo spingere a nostro modo dai 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 su dai dai su posso sentirlo? yes petto demolito no lo sentite 110 kg questi fondamentali ed ha un annetto che non ci lavora uno leggeri due tre ancora quattro sì ritorno al powerlifting dopo tanto tempo spingi 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 slowly chi ha lasciato l' começo per mod su 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 va qua mandorle 1 2 4 per 8 vai adesso passiamo a un 4 per 8 di panca piana con stop al tetto di 2 secondi questo è un ottimo esercizio per il transfert sulla panca piana vi fa aumentare il vostro massimale 12 un po più lento 12 push is a 5 Bush sempre bello su uno e 1 1 1 rain per i cpt demoliti c'è il ragazzo prego fede bello 1 2 6 l'ultimo 2 push ok ancora passiamo al terzo esercizio panca inclinata manubri con super serie croci su panca inclinata iniziamo con 35 kg di manubri e andiamo a serie 4 serie da 6 più 12 obiettivo sverginare il cinquantone let's go 1 2 3 4 5 e 6 1 2 3 4 5 6 arriva a 10 in meno 7 8 9 e 6 1 2 3 4 5 e 6 go go vai let's go catch let's go 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 e 6 3 5 5 e 7 3 5 6 4 5 7 3 6 2 5 6 Sì! Vai! Sì! Belle tese! Belle tese! Sì! Sì! Vai! Meno su casa! Sì! Sì! Buono! Sì! Sì! Bella! Vai Fede! Su! Uno! Sì! Due! Tre! Sì! Quattro! Cinque! E sei! Cinque! Sei! Sette! Poi l'ultima tre! Uno! Due! E tre! Perfetto! Poi l'ultima tre! Perfetto! Poi l'ultima tre! Poi l'ultima tre! Pi' l'ultima tre! Poi l'ultima tre! Poi l'ultima tre! Pocom fara! Sì, dai! Meglio, 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 qua! 4, 5, 6, 7, Vai Fede! Spingi! Vai! Spingi! 2, ancora! 3, vai! 4, ultime 2, ancora! 5, ancora! Ancora, vai! Super! Buono! Guarda qua, mandorle! Bellettone! Solo, grazia! Energy almeno su gusto, mela verde! Codici con tutti i festeggi! Su! Let's go! Yes! Guarda qua! Guarda qua! Guarda qua! Altre 4! La vedo dura! No! Tosto! Come stai? Ho il petto a terra da prima! Tosta! Grande comunque! Faccio vedere sto petto, va qua! Vettorale in pump! Bello! Anche lui! Bello tosto! Ha una quarta di registro! Passiamo! Passiamo a spalle! Chiaramente non sarà il gruppo muscolare sul quale ci siamo focalizzati in questo workout! Infatti andremo a fare delle semplici alzate laterali! 4x20 facciamo insieme la squad! PGP Boys! Bello! Lo sentite? Lo sentite questo rumore? Spalle infiate! Sì dai! Sento anche odore di maschio! Sì! La palletta regannone! Le facciamo a palletta! Ci piace? Raffè! Gigante! Bella! Siamo grossi? Siamo grossi? Ci proviamo! Non siamo grossi! Sapete io sto parlando con la cameraman che è una severissima Rebs! Stanca! E cosa dici? Dici che sei brava! Push! Ah! Yeah! Yeah! Mi muore! Tricepiti passiamo alle dips con sovraccarico kettlebell da 16 kg anche questo è un ottimo esercizio per migliorare sulla panca piana! Vai Roccia! Sei conti! Uno! Due! Vai! Tre! Yes! The tails! Stai su bene! Tre! Quattro! 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 Tricepiti! Buono! Ultimo esercizio! Finiamo bene questi tricipiti! Facciamo quattro serie di cedimento French Press! Taga! Questo insieme alle dips è uno degli esercizi migliori soprattutto per costruire un bel tricipiti! Il disegnato! Un corno! Una virgola! Vai Fede! 10 di 10 al lato! Yeah! Uno! Yeah! Due! Vai lì! Gomito fermo! Abbiamo questo! Tre! Il cornino! Quattro! Cinque! Sei! Sei! Sette! Quattro! Bello! Nove! E dieci! Bello! 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 Deci sempre! French Press! Top! Bello! Passato! Go Dan! Ready! Yeah! Facciamo vedere! Facciamo vedere! Questo tricipite! Bello! Bello! Yeah! Dai! Abbiamo concluso questo workout! E ora ragazzi! Qua c'è il muscolo! Voglio un po' di push down! Voglio un po' di push down! Vai! Un po' di push down! Per farvi vedere! Questa! Potenza! Bello! Vai vai! C'è un double biceps! Double biceps! Belli! Grossi! Sono grossi ragazzi! Mi piacciono! Workout terminato! Date la grande! Vi piaciuto? Grande! Grande workout! Come a solito ragazzi! Se vi è piaciuto! Lasciate un bel like! Ricordate di iscrivervi al canale! Se non l'avete ancora fatto! 1500 like! Vi porto un'altra persona del canale! Magari! Ditemi chi volete vedere! E soprattutto che allenamento volete vedere! Grazie di aver visualizzato questo video! Seguiteci tutti su Instagram! Il link in descrizione! Qui da Emo Fitness Studio è tutto! Mi raccomando! Anche in questo periodo! Stay grossi! E noi ci vediamo nel prossimo video! Ciao ragazzi!